molti tifosi juventini come me sentono la mancanza di rinforzi italiani alla juventus tuttavia nel prossimo mercato che si avvicina la juventus potrebbe concludere un grande accordo con l'empoli per un gioiello italiano di 21 anni giacopo fazzini è uno dei migliori giocatori dell'empoli il giovane centrocampista centrale ha tutte le carte in regola per avere un futuro brillante anche luciano spalletti ha già dichiarato in un'intervista che sta tenendo d'occhio fazzini e potrebbe convocarlo a breve la juventus è anch'essa interessata a fazzini e sta già preparando un'offerta ufficiale secondo transfer market il valore di jacopo fazzini è di 6 milioni di euro credo che per meno di 10 milioni possiamo riuscire a chiudere questo accordo